Anche quest'anno, in collaborazione con Emiliano Cao e Gino Scuro, l'amministrazione comunale realizza per il quarto anno consecutivo a Cerignola la Tattoo Land. Abbiamo sposato sin da principio questo evento proprio per portare a Cerignola un qualcosa di innovativo. Infatti avremo il piacere di ospitare nella nostra città tantissimi artisti che verranno praticamente da tutta Italia e anche qualche artista ci raggiungerà dall'estero. Questo non fa che renderci orgogliosi di questa manifestazione e non posso che ringraziare Emiliano che è qui presente, ma anche Gino per il suo grande apporto artistico per aver colto l'occasione di organizzare anche nella nostra città quella che è la fine del tatuaggio. Io approfitto anche io di questa occasione per ringraziare tutta l'amministrazione comunale per aver creduto in questa iniziativa fin dalla prima edizione. È nata come una piccola manifestazione che ogni anno è cresciuta sempre di più. Quest'anno abbiamo raggiunto oltre 70 artisti da tutta Italia e dall'estero, come diceva il carissimo amico Vincenzo Erigno. Noi speriamo sempre in una maggiore crescita. Ovviamente contiamo sempre nel supporto dell'amministrazione che è fondamentale affinché questa manifestazione raggiunga un livello sempre più alto. Quest'anno, come tutti gli altri anni, proporremo durante la Tre Giorni diversi spettacoli. Avremo come ospiti una crew di Basket Freestyle Acrobatico proveniente da Verona. Sono dei professionisti del settore e vi invito a non perdervi questo bellissimo spettacolo che si terrà l'undici, cioè il secondo giorno di questa Tre Giorni. Avremo, come al solito, spettacoli di pole dance, esibizioni di arti marziali e comunque contest di tatuaggi. C'è un po' di tutto. È una Tre Giorni ricca di emozioni e invito tutti a partecipare perché, a differenza di altre manifestazioni del genere, noi lasciamo l'ingresso libero, quindi non facciamo pagare un biglietto di ingresso proprio per dare modo a tutti quanti di approcciarsi e di visitare questo mondo che non è quel mondo così, come vogliamo dire, brutto da vedere ma anzi è bello e potete visitarlo tranquillamente con le famiglie, con i bambini tant'è che la mia famiglia è presente tutte e tre giorni, con mia figlia e quant'altro. Quindi venitevi a fare una passeggiata, fatevi un salto in convention, la durerà da mezzogiorno a mezzanotte, ci sarà un po' di tutto, non solo tatuaggi.